Eccoci qui ragazzi oggi con il super boss Flygon. Allora, già in precedenza potevamo affrontare questo boss solamente con un buon Pokémon, diciamo, super efficace contro Flygon, quindi era difficile batterlo anche se avevo il kit specchio di Folletto, però non ce la facevo. Invece adesso ho catturato questo fortissimo Clefari, andiamolo a vedere nel dettaglio, gli ho dato un Folletto Plus a livello 1 così tanto per, e la mossa kit Magibrilio è a livello 3, quindi essendo super efficace in entrambi i casi dovrei riuscire a battere, e vediamo come la va. Punti lotta consigliati 700, c'è una 615, ma non me ne frega niente ragazzi, facciamo come mi pare. E attenzione, sconfiggiamo subito questi Vibrava, in modo molto veloce, eh sì ragazzi vedo già l'andazzo, è molto buono eh, molto buono, sta mossa è spettacolare, incantavoce perché ne colpisce più di uno alla volta. E quindi ci sta, ci sta proprio, ci sta di brutto, ci sta di brutto, ci sta di brutto, ci sta di brutto, è tosto sto Flygon eh. Bello! Cioè mentre colpisco quello mi colpisce pure con l'artic, che roba ragazzi, che roba! Anche se lo vedo un po' sulle difensive questo Flygon eh. Ah ecco non caricavo bene, sono proprio guagione, guagione sono! Attenzione ragazzi, 20 secondi, ma tanto io mentre sconfiggio questo, questo con l'antavoce mi colpisce pure Vibrava, quindi nel frattempo mi ricarica la mossa, io la posso fare, tanta roba. Però mancano 14 secondi, mi sono perso un po' in chiacchiere, e mi sa che se non ce la faccio mi devo capire di segnare un pochettino. 802, 802, 802! Oh oh oh, no 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 no! Sì! Sbaw! A due secondi dalla fine, sconfitto Flygon, e andiamo. 50 Pokémonete ottenute. Prossimo Superboss, Ariadoss, già lo sapevo. Ariadoss, eccolo qui. E per fare questo Ariadoss, vediamo i requisiti quali sono, quali sono i requisiti per Ariadoss, in mezzo alla nebbia, attenzione, preparo un Pokémon con almeno 770 punti lotta in quest'area. Io ce ne ho 744, no, lo voglio fare subito. Quindi, eh, glielo ho potenzionato, caspita, caspita, caspita. Eh, è un problema, è un bello problema. Aspetta, damogli il Psicoplast quello forte, oh. Ma che stiamo scherzando? E a quanta arriva, vediamo un po', attenzione. 651. Quanto serviamo, ricordo? 770. Ma stiamo a scherzare, stiamo scherzando. Cazzo, 700 è un botto. Non lo posso fare. Anche se potenzio questo, no, c'è un coso solo. Niente ragazzi, quindi per oggi solamente Flygon perché serve un Pokémon più forte. Questi già stanno al massimo, cioè non me la posso mettere a potenziare quello lì solo per riuscire a sbloccare questo. Anche se dovrei fare solo 3 potenziamenti, alla fine si potrebbe pure fare, eh. Però... Non me la vate... Anche perché dopo chiuso. Questo è Coleottero. Coleottero-veleno. Posso usare questo con 530. Oppure questo con 650 non sarebbe mai do la mossa a tipo fuoco. Se la rischiamo? No ragazzi, voglio farmela con calma perché non me la fate fare così di corsa. Quindi, oggi abbiamo fatto solo Flygon. Però tanto è carino, quindi ci sta. E ci vediamo domani. Cioè domani oppure più tardi, non so quando pubblicherò il prossimo episodio. Con il super boss Ariados. Ma adesso vediamo cosa c'è in questa mongolfiera, non si sa mai. Chiglia, non me ne frega niente. E niente, per oggi è tutto. Like, subscribe, share. E un'altra mongolfiera, vediamo. Ponyard, non me ne frega. E niente, like, subscribe, share. È tutto quello che volete. Ponyard, non me ne frega.